Ma ritorniamo indietro 15 anni, quando una tiepida sera di maggio, solo due giorni prima delle nozze, Vuk Stojadinovic, sposo promesso alla bellissima Masha Disdarevic, dall'occhio tartaro ai femori lunghi, uccise in una lite furibonda una trentenne dai rossi capelli, sbattendole la testa contro il muro in una stanza d'albergo sul fiume e venne condannato a 15 anni. Lui disse ai giudici che quella donna era pazza di lui, lo ricattava e aveva minacciato di svelare a Masha cose false su una loro antica relazione clandestina, per questo aveva avuto, volle dire ai giudici riuniti ad ascoltarlo, il suo minuto giallo di follia. Dopo il delitto lei pare non disse nemmeno una parola di condanna e prese anzi ad amarlo di più, ma 15 anni sono lunghi, l'ardore nel ventre le cresceva con la voglia di un figlio, così dicono che un giorno Masha comparve col volto un po' teso davanti al separe del parlatorio per annunciare una cosa assai dura, persino per un ruvido bosniaco. Disse, bastardo, tu sei la mia vita, ti aspetterò, devi starne sicuro, quando uscirai sarò qui sulla porta, ma nel frattempo voglio dei bambini e quindi sappilo mi sposerò con un secondo uomo, ma soltanto il tempo indispensabile a essere madre. Per questo cercherò, devi saperlo, una persona abbastanza matura, da accettare lealmente un patto simile. Così scolpì nel marmo le parole la bella figlia del vecchio di Sdarevic, testa dura di Stara Partisanca e nulla le rispose Stojadinovic, piacente biscaziere e sciupa femmine, rientrò nella sua cella muso duro per sigillare il patto col silenzio. E Marsha, un anno dopo solamente divenne moglie di Dusko Todorovic, un professore di fisica, ed ebbe due figlie che chiamò Nadira e Amra. Insieme vissero un tempo felice in una piccola casa sul fiume, ma lui nel letto spesso sospirava e nelle notti di vento e di pioggia pensava alla scadenza del suo patto. E nel frattempo la Bosnia, preziosa come una goccia d'acqua in una mano, veloce se ne andava alla catastrofe simile a un fiume che rompe una diga. E lì il destino si mise di mezzo per imbrogliare del tutto le carte. Con Sarajevo già stretta d'assedio, Vuc se ne uscì di galera anzitempo, perché mancavano uomini al fronte ed era stata fatta un'amnistia. E venne il giorno che Marsha la Bella disse al marito il tempo è venuto, lo strinse forte, gli disse più volte di prendere le figlie e andare lontano, e si spostò con tutte le sue cose in casa di Gospodin Stojadinovic, poco sotto la fabbrica di birra, a due passi dal fronte e dai mortai. Dopo tre mesi Vuc tornò cambiato, smagrito e devastato di fatica, e il suo sorriso allegro aveva preso la piega obliqua e amara dei Balcani. Lei lo accolse sull'uscio a piedi scalzi, senza parlare gli slacciò le scarpe, gli tolse via le armi e la divisa, poi lo lavò in ogni angolo del corpo con la spugna e un pentolone d'acqua messo a scaldare sulla stufa a legna, lo rivestì con abiti puliti e gli mise sul tavolo per cena un'insalata fresca con la pita, del capretto e una tazza di kefir. E allora fu che redini invisibili mandati dalle zenith, dove un dio guardava con invidia a quel momento, tirarono con forza le caviglie di mascia partigiana dei Disdarevic fino all'altezza del viso di Max. E oltre un mare grande, nero e quieto, Max vide splendere un globo di luce bianca, bianchissima un po' sopra la testiera del grande letto turco, era qualcosa di simile a un'aurora boreale. E mentre intorno le bombe piovevano, d'un tratto lui s'accorse che era valsa, la pena di aspettare tanto a lungo, se il premio della pena sua infinita era l'amplesso di Mascia Disdarevic. Ma proprio allora il destino imbrogliò le carte nuovamente. Fu una sera dolcissima, color di zafferano, quando un bombardamento impertinabile. Ma proprio allora il destino imbrogliò le carte nuovamente. Fu una sera dolcissima, color del zafferano, dopo un bombardamento interminabile, quando i mortai ramparsi tacere. Un pezzo maledetto di granata attraversò una finestra in silenzio e il nostro Vuc, soldato biscaziere, con l'arteria recisa, si svenò e scivolò dal divano sul tappeto. Lei disse «Che succede, Milimoi?». Gli vide uscire un getto dalla gola, uno zampillo color del rubino e in un istante, per Mascia la Bella, dagli occhi come grani di uva nera, finì un amore durato dieci anni, dieci anni di galera a esser precisi e dieci giorni di libera uscita. Grazie a tutti.